Il rinascimento, il tempo del cambiamento, dello svilupparsi e dell'umanesimo delle arti. Un'età di rinascita dopo i secoli cupi del Medioevo ed oggi, dopo una pandemia, il lockdown e la crisi, c'è più che mai bisogno di rinascita. Una rinascita che a Vicenza parla di cultura, di una grande mostra, proprio dedicata a quei grandi artisti che fecero fiorire l'arte nel mondo. Vicenza vuole proprio ripartire da loro, forte anche di una grande presenza turistica, che il riaperto palazzo tiene e lo fa con una grande mostra in Basilica Palladiana, la fabbrica del rinascimento, processi creativi, mercato, produzione a Vicenza. Partirà a dicembre questa grande mostra sul rinascimento, che prevede un percorso con una terza mostra successiva su cui stiamo già lavorando e siamo convinti che grazie alle nuove misure anti-covid comunque sarà possibile accedere ai musei. Quindi questo è importante perché il motore della ripartenza è sicuramente la cultura. Buon viatico anche per l'altra grande ambizione della città, guantare il titolo di Capitale della Cultura 2024. Vicenza non solo parla di cultura, ma fa cultura e quindi è un soggetto culturale importante nel suo insieme. La mostra vuole ricostruire i 30 anni dell'eccezionale vita artistica della città, dal 1550 all'inaugurazione del gioiello del Teatro Olimpico nel 1585. Un fil rouge che lega tra loro il genio dell'architettura Andrea Palladio, ai pittori Paolo Veronese e Jacopo Bassano, al grande scultore Alessandro Vittoria. Una delle novità della mostra è proprio il fatto di riunire le arti e di cercare di ricomporre quel quadro caleidoscopico che è il Rinascimento, in cui scultura, pittura e architettura erano una cosa sola. Per l'occasione tornano in città, dopo secoli, alcuni dei capolavori assoluti della pittura, scultura e architettura del tempo, un'operazione che ha visto coinvolte le diplomazie museali. Sono tutti quadri che arrivano dai grandi musei sulla base della passione che ha suscitato il progetto scientifico. I grandi direttori hanno scommesso con noi su una mostra che ha pochi uguali. Una mostra che vuole essere di richiamo internazionale e che fin da ora ha aperto le pronotazioni.